ebbene amici voglio leggere questo pezzo che trovate sul mio genius pop c'è tutta diciamo un'introduzione so io cosa bisognerebbe introdurre vero infatti io ne conosco una più del diavolo cioè arve west colui che ha le corne in testa glielo ho messo io scopando la sua ex moglie ciao io e te abitiamo lontano e le distanze sono notevoli ma ogni tua nuova foto mi induce ad allungarlo no no ad accorciarle si c'è tutto questo pezzo molto spiritoso se voleste leggerlo ma adesso ci spostiamo su quell'altra che ecco secondo me quella donna è una zoccola ma stefano come fai a a dire che è una zoccola beh dopo di me entra un altro andiamo avanti andiamo avanti sì 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 c'è tutto questo pezzo che non è male tagliamo la testa a benicio del torno a gillermo del torno al critico del cazzo al critico del cazzo ho aggiustato il microfono allora le contraddizioni viventi dei dementi è una società di dementi o il demente migliore diventa il vero demente ora mi pare chiarissimo il concetto che mi ha espresso in questa lapideria frase che non è a effetto no io per te donna non provo nessun affetto per quell'altra sì invece e non è neppure una freddura per ottenere facili risate oppure ancora peggio per attirarmi l'ammirazione di qualche estete cultore delle massime con gli ossimori e ci sono gli ossimori e ci sono anche gli ossi biondi gli ossimori a loro a loro volta a loro volta ci riferiamo non agli ossimori alle massime a loro volta pregne pregne di significati significanti e spericolati cosiddetti geniali doppi seni doppi sensi e da un po che intendo sputtanare questa gente platealmente deriderla prima di oggi devo ammettere che non possedevo il coraggio la franchezza intellettuale la forza morale e l'arguta capacità di ribattere dinanzi ai loro sacrileghi a fronti vergognosi e allarmanti sì perché di ripeto le loro proterve bocche offensive ero debole e alla fine soccombevo schiacciato dalle loro insistite imperterite provocazioni voraci essi vogliono inghiottirti sì 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 diventando a uscenità delle mostruosità la parvenza del sembiante da loro ma sapete cosa significhi sembiante ma che sapete ma che sapete da loro ipocritamente malegnamente scaricatomi addosso scaricatomi addosso scaricatami addosso la parvenza cucitomi cucitami a pelle dipintami allora no dipintami a immagine dipinted blu ma perché mi vuoi dipingere di blu io voglio essere dipinto di verde a immagine somiglianza dei loro volgarissimi tiramenti di culo bastardi figli della loro cattiva pessima educazione quatta cattiva quatta ma procediamo con calma intanto passa l'aereo tutta questa gente va in vacanza verso lidi 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 e esoterici no esotici e basta vi stavo già facendo a salire da lì nel mio temperato istrionismo brafrasando il compiato critico morandini il quale usava questa bellissima espressione per identificare le performance attoriali più sfumatamente creative personali ecco dicevo la mia composta moderatezza stava già colassando infettato dalle loro maligne allusioni pazze si queste persone oltraggiose della dignità altrui le sofanti e sciacalli delle anime del prossimo che loro insultano e macerano a diletto e a diletto dunque delle loro stolte criminose dunque delittuose false concetture concetture delle loro false confetture no concetture delle loro catture e scemeiature sono dementi le persone non sono demente no femminile ma ci vuole dementi le persone sono dementi altresì psicopatiche qui ci vuole il femminile e godono nello scatenare al malcapitato di turno attraverso appunto le loro scelerate umiliazioni inflitte al prossimo loro verso il quale provano solo odio invidia e alcuna c'è nessuna scriviamo nessuno è meglio e nessuna empatia reazioni psicotiche a loro volta figlie delle loro esagerazioni imperiose buriose fatte di improperi impropri impropri arcini e severamente di bietosi la psicosi la psicosi nasce infatti da un alterato rapporto all'individuo affettato se ne affetto se ne affetto se ne affetto se ne affetto ne affetto ne rispetto all'ambiente circostante percepito giustamente come ostile e precluso quindi lo sfigato angariato da tali impostori da tali maia malati mentali affettati e affettati cinici comunque donne lei del banca dei salumi prepari un po di prosciutto crudo anche un po di mortadelle di speck poi a lei faremo tutto sì sì tutte carne cruda ci sarà soprattutto affetti affetti non affetta affetti da crudele bestialità porcellesca carne di maiale e acrimoniosa annega nell'impoverimento emozionale il caldo 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 ma che caldo dai donne vatti a fare una doccia divenendo schiavo delle loro misere e difamazioni pusillanimi scarsamente amorose la pusillanimità patologia dico soffri il 90 per cento dell'umanità l'umanità è per lo più costituita da persone persone che a prima vista paiono appunto di sana e robusta fisica e costituzione sì sì che si attengono almeno esteriormente le facciate costituzionali della legge civile del rispetto e dell'egualitaria visione umanistica tutti questi di sinistra si voglio dobbiamo volerci bene ma anche quelli di adesso così ridire panteistica del creato o vuoi ammazzare in cristo sì 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 ma sono tutti buoni infatti si spacciano anche gli spacciatori si spacciano si spacciano anche pure queste si spacciano per persone infatti buone sensibili umanamente disponibili in vero in verità vi dico sono soltanto degli opportunisti o serestimamente arrivisti così che come ci hanno insegnato grazie all'ammirabile ficcante penna di David Mamet sapete che è lui dietro quello se autonoma si chiama Robert de Niro e Gean Renaud e Ronin construo di affascura niente adesso userò questo accento erano buono francese Ronin sono tutti amici finchè non arriva il conto da pagare e questo sembra ancheiroshe terganese anche figlio di Agnelli Vi posso garantire che appena qualche loro amico crolla, questi sedicenni, lo fanno anche quando hanno 50 anni, anche a 70, fuggiranno, vi abbandoneranno, come si suol dire, nel momento del bisogno se ne fotteranno, è troppo facile essere amici del prossimo quando le cose vanno bene a tutti. Non scopro certamente l'acqua calda né conio naturalmente una verità politica di rilevanza planetaria, nel ribadire pronisticamente, diciamo pure pateticamente, insopportabilmente, banalmente che il vero amico si riconosce nel momento del bisogno. Il vero amico si riconosce nel momento del bisogno, il resto è solo un sogno, appunto sogno, torneremo, no, arriveremo a parlare di c'era una volta in America, l'amicizia, diciamo l'amor, ecco, peccherei di demenza nel credere che tale suddetto aforismo sia una mia frase di risma e non una faciloneria qualunquistica, ma non perdiamoci in patemi d'animo, non scoraggiamoci se qualche stronzo ci scorreggia in faccia, quando in realtà andrebbe solo smerdato ed evacuato dal nostro culo iroso. Sì, sì, lo sfintere, sì, dopo tanta tirofagia, meteorismo, sì, sì, buh 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 buha buh buh buha buh 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 buh. So soltanto che grazie alle sciocche e offese altrui, se come detto un tempo mi risentivo e mi accasciavo, anzi accasavo, nella casa costruita, ma addosso a questi qua. Questi sono degli psicopatici, sono, sono come me Dillon della casta di Jack, addosso ai loro ignoranti maldicenze, Aldicenze, ora le affronto impavidamente, deliberatamente in maniera micidiale, in forma parimenti bestiale e superbamente arrogante, in modo altrettanto arbitrario, sfacciato e sprezzantemente valanglorioso, eh signora? E' così signora, e se ne dico che è così è così. Esempio, il giovane medio, dall'altro prosopopeico, della sua gagliarda giovenezza, scrittere attamente dolosa, temerariamente insulta, dandomi dell'uomo anacronistico, lento, in una parola vecchia e inconsolabile, amaramente matto e solo, solo, oh sole mio, questo suo atteggiamento codardamente spocchioso, figlio appunto, invece delle sue inconsce paure da tragico immatura, sai sospettose e caluniosi, il quale, ragionando di stereotipi e stereotipi e luoghi comuni a IOS, ma dategli una russa, ancora è lui, sì lui, fermo alle schematizzazioni del prossimo entro i compartimenti diagnostici, cretinamente esegetici, della sua visione acerba, della complessità del reale, dell'insieme in vero entropico, immensamente e stupendamente caotico, di tutto questo mondo falotico. E falotico è sinonimo di bizzarro e stravagante, ovvero il contrario della fascinoneria castrante, ogni speranza del deficiente succitato è anche sovrecitato quando offende, oh sì, oh che goduria, l'offendo, oh ma che ma, ma sei un miserable, che credendosi invincibile ancora spara se squipe dà l'idiozie. Al che, ecco che spunta l'ombra di Fantozzi, che lui ti appioppa, poiché ti vede impressionisticamente, oserei dire, eh no, non rimani impressionato da te, forse rimani impressionato, invidioso, e quindi, vabbè, oserei dire molto superficialmente, come un declassato medio basso senza qualità, ma dove lei mesce le palle? Senza palle e poi sono una litera stupefacente. Spumeggiante, come dice Jim Carrey di The Musk. È un ragazzo molto indietro, è un arretrato, vuole ficcartelo nel di dietro, ma io sono molto più avanti di lui, quindi, eh, deve fare almeno 5 km per ficcarmelo. Assomiglia tanto a quell'idiota del critico della minchia per eccellenza, Pino Farinotti, il quale, a proposito della sua illegibile recensione, diceva una volta il West, chiusò nel suo antologico finale, con una massima storicamente, oltre che inattendibile, squalidamente qualunquistica, come già detto. Ecco, secondo Wikipedia, il qualunquismo, signor, è un atteggiamento veramente ispirato dalle azioni del movimento dell'uomo qualunque, che non è albanese, come si chiamava, c'è la qualunque, non è lui, non è lui, che rinnega, o almeno intenzionalmente, ignora l'aspetto politico del vivere associato, con barbe, in Italia, nell'immediato dopo guerra. Ehi, aggiungo io questo atteggiamento così tanto qualunquistico da essere, di risultare ridicolmente superomistico, purtroppo, e non è affatto scomparso. Ad esempio, Farinotti scrive, a proposito di C'era una volta il West, e a proposito anche di Sergio Leone in generale, scrive, ma come fa quest'uomo alla matriciana, come ha fatto Sergio Leone, quest'uomo alla matriciana, di Roma, ma vuole ambientare il film N'Amono in Valle, ma che ne sa Sergio Leone, N'Amono in Valle, che se mangi tu spagli, ma sarebbe come dire, a proposito di superomismo, perché Kubrick, prima ancora che l'uomo Armstrong atterrasse sulla Luna, cosa ne poteva sapere Kubrick dello spazio e dei viaggi interstellari? Ma che sta a dire? Ma questo, Farinotti, l'ha mai vista la leggenda di pianistro sull'oceano? Perché Tornatore, adesso faccio come Carlo Verdone, che era amico di Sergio Leone, e Tornatore viene qui a torto, perché secondo me Tornatore non va a Lugazzi, chiariamoci, no, chiariamoci perché è la leggenda di pianistro sull'oceano che si fa, scusi, è Tim Roth, è fantastica immagine, ma sta sempre chiuso lì, perché è un genius, Tim Roth, com'è? Lo è il genius pop. Diceva, ha questo atteggiamento che sta adottando a quel linguistico da essere risultato a un ricordamento di superomesso, che purtroppo non ha fatto scomparsi, anzi, sta crescendo proprio in seno alle famiglie della nuova generazione, che appunto sta educando i figli all'arrivismo, alla competitività più meschina, all'egoismo addirittura più egotista, cioè autocentrato sulle loro circoscritte esistenze solipsistiche. Non dico, andiamo avanti, andiamo avanti. Abbiamo perso da vista il fare notte. Ah, scusate, ora lo riprendiamo. No, no, riprendetelo. Queste persone, questi calunatori mi dicono, ma perché non lo riprendete? Ma che volete riprendere? Ma io, a parte che mi sono ripreso, ma sono io che... Adesso sono io che vi prendo, ecco, dove sapete. Abbiamo perso da vista il fare notte, scusate, ora lo riprendiamo e distrapoliamo la sua bischerata epica, se lontana dall'epicità, il leggendario di Sergio Leone, remota anni luce della sofisticata melodica musicalità paradisica di Ennio Morricone. Tra l'altro Morricone, compositore storico anche di Giuseppe Tornatore, e anche, insomma, di Fulet, Tarandina, che adesso esce una volta a Olavod, ecco, fare notte, a proposito di C'era una volta il West, scrisse, ancora compare nel suo dizionario, un cult movie per ragionieri in vena di poesia. Un cult movie per ragionieri in vena di poesia. Ora, adesso la poesia... Scusi, signor, chiediamoci, questo fare notte è proprio un sceme. Adesso la poesia... Scusi, uno fa il barista, allora sarebbe come dire un cult movie per barista in vena di poesia. La poesia è universale. La poesia, appunto, è spaziale. Non possiamo associarla a una categoria lavorativa, che fra l'altro ha anche questa settorialità di classificare tutto, va bene. I ragionieri, sì, i ragionieri alla Fantozia, ma c'era una volta il West. E dove è il problema, scusi, fare notte? Perché, fortunatamente, non è appunto Farinotto, eh, Fantozze. Uomo, Farinotte adesso, uomo di seppienotto, eh, che anziché essere angariato dal padrone, è uguale a Sam Rothstein De Niro di Casino. Eh, questo Farinotte è talmente puntiglioso e meticoloso nel recensire le vite e i film altrui di non aver capito ancora che invece la sua vita è una tragedia umana, desumana. Farinotte è uguale, peraltro, sia a Noodles che a Max, dicero una volta in America, ma ancora non l'ha capito, eh, non l'ha capito. Pino, non preoccuparti, andiamo dai alla gelateria Pina, ti offro un gelatino. È stato tutto un trip esistenziale, antirecensore del tempo tuo perduto, da drogato più che di oppio, di cazzate coi parocchi. Io non sono nessuno, per proferire parola, e non sopporto quando la gente più grande di me mi chiama signor, vado in giro, signor Falotto, ma che signor? Uè, ma quale signor? Eh, io sono solo il signore delle belle signore, che possa amare tutte le ore, miei pecoroni e suore, che in cuor vostro da anni sognate una pecorina con luterano pastore, protestate, datevi al protestante. Buonasuora, no, no, buonasera, no, buonasera, buonasera. Abbiamo perso il pezzo, dove è andato il pezzo di figa? È andata da di là? E andiamo a trovarla. Ecco, anche oggi abbiamo partorito la cazzata mitica, sembra meglio comunque delle cazzate di Pino, uno che non è amato né stimato dalla moglie di Fandozzi, Pino, per forza, uhuh, ho detto tutto, ci vediamo alla prossima con il Joker Marino, Pino, Joker Marino, te lo ficca nel culino. A proposito di Uomini Sole, Uomini Sole, di Dio delle città, dell'immensità, ecco, Uomini Sole, è uscita, ha pure sta canzone di queste due siciliane, Sicile, Sicile, ma io non ho amato ancora nessuna donna della Sicilia, comunque ho amato tre donne di nome Sicilia, ecco, basta, basta, ecco, ma è uscita questa canzone, veramente la news, veramente patetica, ecco, ma quale sono le vanzine, canzoni di Levante, Levante e Carmen Consoli, mamma mia, questa donna, questa Consoli, è una donna inconsolabile, a questo punto è meglio l'altra siciliana, la sconsolata, eh sì, e comunque, ricordate, questa canzone, lo stretto necessario, e se lo stretto sarebbe necessario, sarebbe necessario unire la Calabria con la Sicilia, è da tempo che si parla diciamo di collegare lo stretto di Messina, ecco, ci vorrebbe il ponte di Levante, no, il levatoio, ci vorrebbe il ponte di levatoio, e questa Consoli, ma se lo vasse, ecco, perché, veramente stancata, una lagna, lo stretto necessario, lo stretto necessario, lo stretto necessario, uè, ecco, eh, Carmen Consoli, ma lei l'ha mai visto, dico, visto che è una donna così la news, è così probabilmente frustrata, lei l'ha mai visto il film Il Consolo Onorario, e lì c'è Richard Gere, vedrà che la voce migliore, la sua, è una voce un po' schiacciata, signor Consolo, signor Consoli, lei guarda Il Consolo Onorario, e poi, anche se adesso Richard Gere ha 70 anni, praticamente, vedrà che lo contatterà per telefono, e dirà, scusse, Consolo Onorario, qual è il suo tariffario? E' un altro Il Consolo Hippone di Radio depressione e inferiore